0 punti 3 vite 0 punti 2 vite la palla va contro l'asta Santoni può fare solo quello, Arisci lo sa 0 punti 1 vita perfezione assoluta in battuta e più 1 vita a voi guarda dove mette il braccio un punto e una vita 0 di là, Mazzoleni e Iversini in 5 vite 0 5 0 punti 2 vite Fabio perdonami c'ho la palla che è quasi fuori dall'asta perché si è saltato in centro? cioè balisticamente non ci poteva finire quel colpo aveva eh ho capito ma se è fuori dall'asta non si stacco anch'io che c'ho sto a fare che è a muro che va a mani fuori un punto due vite un punto una vita e più 2 per Mazzoleni 2 punti 2 vite 2 punti una vita cioè 3 punti una vita 4 punti una vita 4 punti una vita va benissimo così è un errore buonissimo 5 punti una vita quello era quello che dovevi fare è dentro è dentro tutto non è rumore sì sì va là eccolo lì 5 punti 0 0-2 0-2 oddio non ci credo mai non ci credo e non vi danno 0 punti una vita ma a lei sto furtando e al punto sono impegnati non ci voglio credere sto male un punto una vita fuori fuori non ci vediamo Grazie a tutti.